in apertura di video volevo salutare il cavaliere templare e sera partecipato un po alla live ti posso solamente dire sei una delle persone più buone e di cuore che abbia mai conosciuto in vita mia non ho più vent'anni ne ho molti di più mi dispiace per le offese mi dispiace per le diffamazioni mi dispiace per tutto quello che ti hanno fatto ma ora sei libero caro cavaliere sei libero di vivere tranquillamente la tua vita io per rispetto non ti chiamerò mai in live infatti non ti ho mai chiamato proprio perché ti rispetto tanto perché so che per tre dopo le bruttissime esperienze che hai avuto su youtube per te il tubo diciamo è una cosa un po da evitare lo capisco per quello che ti hanno fatto sul tubo quindi onore a te cavaliere templare sono contento essere venuta fuori la verità sono contento e siano passati certi messaggi che non sono certo quelli offensivi e fa qualche di un altro ma secondo me è stato lanciato un bellissimo messaggio quindi io ve lo voglio dire ragazzi in generale non date soldi su youtube soprattutto per sentire le cazzate non date soldi su youtube a fine video dirò mettetevi i comodi se avete una poltrona non so per chi è in piscina versati un drink fai quello in che ti pare perché dirò le 41 condanne della juventus le leggerò tutte tra l'altro è un articolo di passione inter del mio amico lorenzo che saluto ciao lorenzo di passione inter ma a topo ciccio a te topo ciccio che ieri io ieri ero fuori per lavoro un caldo allucinante si squagliava tutto ho parlato un po dell'antitrust è vero in maniera marginale perché comunque sta attenta all'antitrust alla violazione libera della concorrenza hai ragione caro topo ciccio ma come mi ha scritto anche pippo che saluto ciao pippo nel video eh il giudizio antitrust eh caro topo ciccio scaturisce da un attento esame di documenti contabili bilanci compresi ovviamente quindi ripeto tiene assolutissima assolutissimamente conto come tu dici te della non violazione della libera concorrenza su quello siamo d'accordo ma anche della regolarità dei bilanci e e della bontà soprattutto del passaggio di proprietà tra zang e octri perché non c'è stato nessun pignoramento c'è stata solamente l'escussione di un pegno quindi pignorati sarete voi quelli del milan che diano pignorati a noi allora voi siete pignorati dal duemila diciotto facciamo così tra l'altro questa cosa qui dell'antità dell'antitrust lo dice un terzo non certamente di parte per quello riguarda poi la live di ieri sera processo prisma volevo ricordare a agli amici giuventini non miei ma di qualche di un altro che la consob si è costituita parte civile che la fico proprio così si chiama la fico la fico tutto attaccato scrivilo vai a cercartelo è una società che detiene azioni juve e si è costituita parte civile nel processo penale prisma dove ieri effe perché l'avvocato pierre mi hanno ben spiegato quali sono i capi di imputazione ora prima di leggevi 41 reati della juventus voglio parlare un attimino di riccardo di di rodriguez si di riccardo di rodriguez quello che era in milan quello che è in torino io ti dico una cosa come braccetto difensivo per impostare il gioco per l'uscita palla va bene pecca solo in fase difensiva ma se te me lo prendi come braccetto ha esperienza è un nazionale svizzero titolare la svizzera insomma mi sembra abbia fatto una bella figura i mondiali non sono andati lì a pascolare le pecole per fare il latte e per poi dopo produrre la cioccolata insomma mi sembra che sia una bella squadretta la svizzera di cosa stai ragionando il periodo è quello che è il discorso economico lo conosciamo tutti molte molti di voi lo conoscono anche grazie alle nostre live quindi se mi prendono riccardo rodriguez come braccetto va bene va bene questo periodo va bene perché vedo altre cose positive investimento sui giovani ne abbiamo parlato ieri quindi riccardo rodriguez non è così da buttare come dice qualcuno di voi perché a calcio sa giocare ha dimostrato di poter giocare squadre importanti è il capitano della nazionale svizzera comunque non è un bischero qualunque come si dice dalle nostre parti ora mettetevi comodi mettite a sedere spegne spegne la televisione mettite a sedere passeranno due tre minuti ve lo vuole ascoltare spenga pure allora però non lo trovo più eccolo qua tutte le condanne della juventus dal 2006 ad oggi almeno anche il cappello al vento si dà una rinfrescata quale body shaming ma di cosa stai ragionando dopo il ciccio ma di cosa ragioni te te sei il primo che commenta le te topo ciccio hai commentato una notizia falsa di ottri che girava su x ma di cosa ragioni secondo te uno di ottri poteva dire quelle cose come si fa a commentare una notizia del genere non accendete il cervello secondo te ciccio uno di ottri va a commentare quello dice veloce lì ma l'oste secondo te parlerebbe mai male del suo vino ma di cosa ragioni ciccio cicione come cavolo tutti gli anni le 41 montane della juventus dal 2006 oggi ciao a lorenzo di passione inter con quella del 29 febbraio il numero di sentenze ai danni della juventus dal 2006 ad oggi raggiunge quota 41 41 sul campo e se preferite in tribunale vi citiamo tutte 41 le sentenze quindi io incomincierei con quattordici luglio 2006 a tra l'altro tra l'altro scusate la juve ha già patteggiato in calciopoli due per le sim svizzere con 300.000 euro quindi voi siete patteggiatori al quadrato perché avete patteggiato anche per le sim svizzere comunque andiamo ai reati 14 luglio 2006 primo grado calciopoli 25 luglio 2006 secondo grado calciopoli 27 ottobre 2006 arbitrato coni su calciopoli 18 giugno del 2008 patteggiamento su schede sim svizzere l'ho appena detto 16 giugno 2011 radiazione moggi e giraudo 9 luglio 2011 calciopoli secondo grado conferma della radiazione di moggi e giraudo 18 luglio 2011 respinto il figi cil esposto contro lo scudetto 2006 assegnato all'inter il 19 marzo 2008 cari ragazzi il tar del lazio respinto il ricorso di moggi contro la squalifica in ambito sportivo 22 maggio 2008 tar del lazio respinto il ricorso di due associazioni di tifosi contro l'assegnazione dello scudetto 2006 all'inter 8 gennaio 2009 caso gea moggi condannato per violenza privata lo schimano loro 14 dicembre 2009 calciopoli rito abbreviato condannato giraudo per frode sportive associazione delinquere l'otto febbraio 2011 il tar del lazio respinge il ricorso presentato da giù le mani dalla juve condannata a pagare risarcimento a fedel calcio coni ed inter il 25 marzo 2011 cari ragazzi caso gea secondo grado attenzione confermata la condanna a moggi per violenza privata 8 novembre 2011 sentenza penale di napoli moggi condannato a cinque anni e quattro mesi per associazione delinquere 9 novembre 2011 ricetto dell'esposto da parte dell'uefa 11 novembre 2011 moggi condannato per minacce nei confronti di baldini 17 novembre 2011 dichiarazione di non competenza del tnas 4 aprile 2012 conferma della radiazione di moggi e giraudo 12 aprile 2012 il tribunale dell'ue respinge il ricorso presentato da giù le mani dalla juve il 26 giugno 2012 tribunale di milano ricetto della quarela di moggi a carlo petrini 30 giugno 2012 la corte dei conti respinge il ricorso di juventus decretando la figici non responsabile di danno erariale per essi dichiarata non competente a decidere nel 2006 3 agosto 2012 tag del lazio respinge il ricorso di moggi contro radiazione 12 settembre 2012 il consiglio di stato respinge il ricorso di moggi contro radiazione 17 ottobre 2012 la corte dei conti è ondanna 14 ex tesserati aia risarcire la figici per danno d'immagine il 5 dicembre 2012 il tribunale di napoli condanna in appello ad un anno ed otto mesi antonio giraudo per associazione delinquere e frode sportiva accade solo il ruolo di promotore il 7 agosto 2013 la stazione giudica inammissibile il ricorso di moggi contro la radiazione 17 dicembre 2013 appello calciopoli due anni e quattro mesi a luciano moggi due anni a pairetto e mazzini un anno a desantis 10 mesi a dattilo e bertini il 10 giugno 2014 la stazione conferma sequestro di 12 milioni a giraudo per il danno da retrocessione al brescia finito in serie b si avvicina la famosa vuota di 30 sul campo o come lanciato ieri in un hashtag tra i più popolari eh su twitter dice lorenzo di bastone inter 6 settembre 2016 tarde il lazio dichiara inammissibile la richiesta di esercimento danni alla figici per la retrocessione in serie b il 22 novembre 2016 la corte d'appello respinge il ricorso della juve per revoca scudetto duemilacinque duemilasei all'inter il 15 marzo duemilacinette il consiglio di stato respinge il ricorso di luciano moggi confermando la radiazione il 13 dicembre 2018 la cassazione considera inammissibile il ricorso della juventus per la revoca dello scudetto duemilacinque duemilasei 6 maggio 19 il collegio del coni considera inammissibile ricorso della juventus per la revoca scudetto duemilacinque duemilasei all'inter l'undici luglio duemiladiciannove il tribunale federale nazionale considera inammissibile ricorso della juventus per la revoca dello scudetto duemilacinque duemilasei il 6 agosto del duemiladiciannove la corte d'appello federale respinge e considera inammissibile ricorso della juventus per la revoca scudetto duemilacinque duemilasei a inter 6 novembre duemiladiciannove il collegio di garanzia dello sport respinge e considera inammissibile ricorso della juventus per la revoca dello scudetto duemilacinque duemilasei all'inter 13 dicembre duemiladiciannove la Cassazione considera inammissibile il ricorso della Juventus per la revoca Scudetto 2005-2006 all'Inter il 6 maggio 2019 il Collegio del Cloni considera inammissibile il ricorso della Juventus per la revoca dello Scudetto 2005-2006 11 giugno 2019 stessa cosa 6 agosto 2019 la stessa cosa 6 novembre 2019 la stessa roba il 20 gennaio 2023 la Corte federale dell'appello della FIGC ha combinato una penalizzazione di 15 punti in classifica nei confronti della Juventus per il caso plus Valenze 22 maggio 2023 la Corte federale dell'appello della FIGC ha combinato una penalizzazione di 10 punti in classifica nei confronti della Juventus per il caso plus Valenze 19 ottobre 2023 la Procura federata ha combinato una squalifica a Niccolò Fagioli di 12 mesi di 5 mesi di servizi sociali e un'ammenda di 12.500 euro in merito al calcio scommesse la sentenza è arrivata dopo il patteggiamento del giocatore 6 gennaio 2024 di Rosa Ragioni il Consiglio di Stato ha posto fine ai ricorsi della Juventus in merito a Calciopoli dopo la rinuncia dei bianconeri alla richiesta dei danni alla FIGC la sentenza richiesta al club torinese il risarcimento delle spese legali FIGC e 5 e all'Inter risarcimento FIGC-Inter 5.000 euro a ciascuno di 29 febbraio 2024 il Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato Pol Pogba centroampista della Juventus per 4 anni dopo che il giocatore era stato trovato positivo ad una metabolita del testosterone ad un controllo a seguito di Udinese di Juventus del 20 agosto e ancora 2024 non è finito ciao ragazzi a presto